Qual giorno di Pentecoste nel Cenacolo c'era anche Maria, tutt'altro che una presenza casuale, mentre lo Spirito conferma agli Apostoli lei diviene madre della prima comunità. Ed è questa maternità anticipata a Giovanni sotto la croce da Gesù stesso, che da oggi la Chiesa intende celebrare con la nuova memoria liturgica dedicata a Maria. A volerla è stata il Papa in persona, spiega il decreto a firma del Cardinal Sarà, prefetto al culto divino. Il Sommo Pontefice Francesco si legge, considerando attentamente quanto la promozione di questa devozione possa favorire la crescita del senso materno della Chiesa, nei pastori, nei religiosi e nei fedeli, ha stabilito che la memoria della Beata Vergine Maria, madre della Chiesa, si è iscritta nel calendario romano nel lunedì dopo Pentecoste e celebrata ogni anno. Festa mobile dunque quest'anno, lunedì 21 maggio. Francesco ha firmato il decreto nel giorno della festa della Madonna di Lourdes, ma solo oggi è stato reso noto. Nel sentire della Chiesa, spiega il decreto, era già presente questa celebrazione. Mancava però una data univoca in Italia, la memoria era il 21 novembre in concomitanza con la festa della presentazione di Maria e il ricordo della definizione postconciliare da parte di Paolo VI di Maria Mater Ecclesie. Nelle litanie lauretane del resto il titolo di Maria, madre della Chiesa, è già presente dagli anni Ottanta. Mancava però una liturgia dedicata. Allegato così al decreto, anche il nuovo ordine delle letture è in latino e prima dovrà essere approvato dalle conferenze episcopali. Ma ve ne diamo un'anticipazione. La prima lettura dalla Genesi, l'uomo chiamò la moglie Eva perché fu la madre di tutti i viventi. Il Salmo, il numero 86, di tessi dicono cose stupende, città di Dio. Per il carattere solenne è prevista anche una seconda lettura dagli atti. erano assidui nella preghiera insieme con Maria, la madre di Gesù. Il versetto dell'Alleluia esalta la madre della Chiesa, tu che accendi in noi il fuoco dello Spirito. Infine il Vangelo di Giovanni sotto la croce, figlio ecco tua madre, madre ecco tuo figlio.